Quando ti alleni pensi di poter controllare tutto, vero? Peccato che nella vita non possiamo controllare quello che sentiamo. Che vuol dire? Che cosa senti per i ragazzi? Io non sono checca. Diciamo omosessuale, che non è una brutta parola. No, no. Perché? Perché no? Che cosa c'è di così grave? Non posso esserlo. Perché? Per provare a papà. Perché che succede? Papà si incazzerà un po'. Farà un po' di casino. E poi se ne farà una ragione. Perché non c'è nulla di male. Non è una cosa brutta. Diego. Non è una cosa brutta. Io lo so che pensi che sono due stronzi. Ma sono i miei genitori. E non li voglio perdere. E non lo so che sono finito. Perché? Perché? E non lo so che ci sono quelle?